29 agosto 2023esima piccole novità per Silvia Toffanin. Dopo mesi di rivoluzioni in casa Mediaset. Anche Verissimo cambia. Niente cui preoccuparsi. Per la conduttrice di Canale 5 si tratta solo buone notizie. Pier Silvio Berlusconi ha infatti deciso di anticipare la trasmissione. Ribaltata la nuova stagione. Del suo talk show di metà settembre. La amministratore delegato dell'Alfa Romeo sembra aver cambiato idea il programma partirà sabato 9. Settembre. Sfidando la concorrenza Rai di La Vita in diretta condotta da Alberto Matano. Il consiglio della De Filippi a Pier Silvio Terremoto Mediaset. Cosa sta per succedere il motivo? Garantire ottimi ascolti alla rete. D'altronde la Toffanin non è nuova ai cambiamenti. La conduttrice intrattiene da tempo i telespettatori sia sabato che domenica. Almeno finché poi non lascia mezzo passo a Maria la De Filippi con il talent Amici. Tanti gli ospiti famosi della nuova stagione. Lei lo ha accontentato il retroscena su Maria De Filippi a un mese dalla morte del cavi intanto. In occasione del suo 85esimo compleanno. Verissimo ha ricordato Maurizio Costanzo. Dopo la sua scomparsa. La trasmissione ha ricordato alcune interviste da Luca Laurenti a Lorella Cuccarini. In tanti a Verissimo avevano condiviso un ricordo del grande giornalista nonché marito della De Filippi.